L'agricoltura conservativa rimane uno dei pilastri di nuova agricoltura in campo e anche la sesta edizione sui campi del CREA di Foggia ha visto la presenza dei marchi più importanti a livello nazionale e internazionale. Abbiamo partecipato per il secondo anno a Nuova Agricoltura in Campo 2018 con la nostra macchina da sodo con tecnologia argentina. È una macchina con elemento di semina con disco turbo anteriore, con elemento di semina a doppio disco sfalsato da 15 e 16 pollici, ruotini di solco dentati per la chiusura del solco ma anche per regolare la profondità di semina. Abbiamo maggiorato le ruote di trasporto e l'obiettivo è quello di calpestare meno i terreni per avere un rispetto maggiore del terreno e maggiori produzioni poi dopo in futuro. Oggi entriamo in campo con di nuovo un dissodatore idropneumatico a 7 ancore, un francizzolle a 32 dischi e una seminatrice Planet che si presta molto sulla semina su sodo. Bednar è presente a Nuova Agricoltura in Campo 2018. Abbiamo portato delle macchine per la minima lavorazione, delle dischiere che è lo Swifted Disc con il sistema Twin Disc con degli accessori un po' particolari, allo strigliatore che è lo strigel che serve per la gestione dei residui culturali, per la semina del cover crop e per la gestione delle erbe infestanti, ai dissodatori con il sistema di schiera per la minima lavorazione e miscolamento dei residui culturali, a quanto riguarda anche i coltivatori ad ancore per una lavorazione sia in minima lavorazione che in profondità. Maschio Gaspardo è presente con la gamma completa ma con un focus particolare sulle attrezzature da minima lavorazione e semina su sodo. Con la minima lavorazione abbiamo voluto portare delle dischiere come la dischiera leggera veloce, la dischiera pesante UFO, coltivatori combinati come Dracula, combinazione di dischi e ancore. Maschio Gaspardo non dimentica anche la semina su sodo con la seminatrice Seme Concime diretta Corsa. La Valle Verde SRL con il marchio La Semina Sodo ha portato a Nuova in Campo 2018, l'ultima nata in casa Valle Verde. Una macchina a dischi, la Disco 4320, noi abbiamo ampliato la gamma, oggi abbiamo oltre al falcione anche la macchina a disco, abbiamo una macchina totalmente isobass, la caratteristica della nostra macchina è di avere un doppio disco inclinato autopulente, con capacità di tramoggia che va fino a 3500 litri. In questa occasione abbiamo mostrato come la differenza di utilizzo di una pressione corretta rispetto a quella più adeguata al lavoro fa sì che l'impronta al suolo di impromatico aumenti la sua area a terra per ridurre il più possibile il compattamento che è uno degli aspetti fondamentali per quello che riguarda la cura del terreno e tutto quello che è un po' l'aumento della produttività stessa. Kuhn ha portato a nuova agricoltura in campo una mini full line per l'agricoltura conservativa, a partire dal Cultimer, coltivatore porrivalente adenti disponibile nelle versioni L e M, che consente di eliminare la compattazione prodotta dai diversi passaggi del trattore, miscelare il residuo culturale con il terreno, controllare le infestanti e, se necessario, operare anche a maggior profondità. Sempre in tema di minima lavorazione, l'azienda francese ha proseguito lo sviluppo della gamma di erpici a dischi indipendenti Optimer. A Foggia si è vista in azione XL300, che consente di lavorare il suolo tra i 5 e i 15 cm di profondità con un rimescolamento ottimale. XL300 permette di eseguire lavorazioni superficiali o medio-profonde, l'interramento di grandi quantità di residui culturali e la terminazione meccanica delle cover crop. Per quanto riguarda il nottillage, la seminatrice da sodo SDE3000 garantisce un'elevata penetrazione nel terreno degli elementi di semina a doppio disco e quindi una deposizione sicura e calibrata del seme anche nelle situazioni più impegnative. L'azienda francese L'azienda francese L'azienda francese L'azienda francese